Ciao a tutti ragazzi, sono Salvatore, Salvatorex1, oggi giochiamo a... E anzi, vi provo a vedere la partita che ho fatto online, su PacoMXY, PacoMXY, e io contro Finnen. Iniziere la partita. Vedete un attimo, non l'ho capito. Che cosa? Finnen. Finnen, si chiama Finnen. Va bene. Finnen, 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 finnen. Eccolo è uno, è ammazzato. Sì, ma infatti l'avevo visto, io tanto che mi stavo a ricaricare, mi ravo e mi miravo sopra, così. Comunque Alex uno sta giocando a cosa? A Ghost. Sì. Baldi, al di Blaziken. Sì, una cosa. Charmander muore. Se non siete bravi a camperare, non giocare a questo gioco. Io sono bravi a camperare. Perché la maggior parte campera su questo gioco. Ed ecco il primo ucciso. Pio morto. Ma a parte scherzi, questo gioco è da camper. Cioè, finchiamo questa mappa da camper. Zitto però. Scusa. Ah, vabbè, giusto, perché lui si è ritirato. Scusa, ragazzi, se tutto ci erano sotto un nuovo video, bella ragazzi. BITCH!